Un incontro degno dei suoi gol da fuori classe e a sorpresa l'incontro tra Pelè e la cucina veneziana avvenne nel terreno di gioco meno scontato per Antonio Masi il principale rivale della mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, ovvero Udite Udite, il Festival di Cannes. A propiziarlo nel 2005 fu un grande ristoratore veneziano, l'ex arbitro Luca Pradel, allora responsabile della ristorazione di Casa Italia al Festival di Cannes che oggi racconta. Ho avuto il piacere di conoscere Pelè, il privilegio, durante il Festival di Cannes del 2005 dove veniva premiato per un premio della critica sudamericana, il premio si chiamava premio Cobaleno per il film che aveva fatto in quell'anno. Una persona squisitissima, pronto a dispensare autografi a chi gli lo chiedesse, è veramente un campione. Anche dopo i funerali l'onda di ricordi e commozione per il fuori classe brasiliano è altissima e non si spegnerà mai. Io Pelè e il mio amico Mario D'Alena che collaborava con noi a Casa Italia, Pelè che brinde insieme a noi, questo resterà sempre nel mio cuore, un autografo personale con dedica all'amico Luca, Pelè. Dopo abbiamo, come ricordo, tutto il nostro staff di Cannes per la cena della cucina veneziana con Pelè, io, il pasticcere Giorgio Liacci, il grandissimo Pelè Roberto Pater, lo chef Pino Baldi e sempre Mario D'Alena. E poi una promessa che è quella di tutti gli appassionati di calcio. Resterà sempre nel nostro cuore di tutti noi. Viva Pelè, sempre, sempre Pelè.